Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Sono qua per dirvi in questo momento un po' particolare che tutti stiamo attraversando, ma sicuramente ne usciremo tutti assieme. Sono qua per ribadire il concetto, io resto a casa. Mi raccomando, fatelo anche voi. Restiamo tutti in casa per uscire il prima possibile. Un bacio e ci vediamo presto. Siamo tutti i prossimi della penultima di campionato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.